ciao ragazzi nuovo video tutto tech questo un video molto breve più che altro esemplificativo per informarvi che è uscita a distanza veramente cosa molto rara di un mese e mezzo dall'uscita negli stati uniti di che cosa delle telecamera di video sorveglianza della blink la blink mini 2 telecamera che rispetto alla precedente cosa ha migliorato sicuramente la qualità video la possibilità di una visione notturna ancora più definita grazie anche all'integrazione del faretto non più opzionale quindi integrato all'interno della telecamera il campo visivo è di 143 gradi sulla diagonale risoluzione fino a 1080p peso di 65 grammi l'audio bidirezionale come ormai e con suetudine su tutte le telecamere ma la cosa che distingue principalmente questa telecamera e la sua resistenza alle intemperie perché c'è proprio una specifica non è resistente all'acqua piuttosto che proprio resistente all'intemperie viene venduta in due versioni 39 euro e 99 solo la telecamera e 49 euro e 98 con l'alimentatore anch'esso resistente alle intemperie quindi il connubio delle due cose vi garantisce che in qualsiasi punto voi mettiate questa telecamera insieme a questo alimentatore può venire giù quello che si vuole ma non si va a rovinare è disponibile nei colori bianco e nero e probabilmente sarà il prossimo acquisto di tutto tec adesso sto valutando perché ho appena preso le blink mini la prima versione e quindi per adesso voglio finire di testare quella poi se non sarò soddisfatto sicuramente passerò questa qui la telecamera può essere utilizzata la mini 2 sia all'interno che all'esterno ed ha la massima naturalmente compatibilità essendo un prodotto di amazon con il nostro assistente vocale quindi per tutti i felici possessori di eco show di qualsiasi polliciaggio vi basterà richiamare il nome della vostra telecamera e vi verrò visualizzata sullo schermo comodità non da poco perché c'è la possibilità poi di verificare che cosa stia succedendo in qualsiasi momento naturalmente amazon con questo prodotto come nel precedente anche la blink mini garantisce il non trasferimento di alcun dato a fonti terze bene ragazzi vi lascio qui sotto il link in descrizione se per caso siete interessati ad acquistare questo prodotto e io direi che per questo video tutto ci vediamo al prossimo ciao ragazzi